Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi anche su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un serial, per l'esattezza oggi vi voglio parlare di Robert Berdella. Robert Berdella è un serial omosessuale conosciuto con il soprannome di Il Macellaio di Kansas City. È autore di sei crimini accertati, però prima di andare a parlare dei terribili crimini di Robert, facciamo un passo indietro, come al solito. Dell'infanzia di Robert non si sa molto, però vi sono dei fatti certi. Robert Junior nasce in Ohio, a Cuyahoga Falls, il 31 gennaio del 1949. I suoi genitori si chiamano Robert ed Alice Berdella, una coppia cattolica praticante che immediatamente integra il figlio nella loro fede. Nel maggio del 1956, quando Robert ha sette anni, viene alla luce suo fratello, Daniel. I due sono cresciuti come ragazzi buoni ed educati che evitano comportamenti scorretti, principalmente perché temono il loro padre, un uomo incredibilmente severo. Inoltre, il padre è solito far del male a Robert, lo picchia, molto spesso usa anche una cinghia contro di lui, mentre invece con Daniel è molto più comprensivo e protettivo. Robert, quando è piccolino, deve indossare degli occhiali molto grossi e spessi a causa della sua miopia, che purtroppo lo rendono una vittima di bullismo. Nessuno vuole giocare con lui, tutti lo prendono in giro e quindi è inevitabile, diventa molto presto un ragazzo solitario, che raramente viene coinvolto in attività di gruppo. Inoltre, non ha molti amici e le interazioni sociali per Robert sono davvero minime. A scuola, Robert non è così tanto brillante, però c'è da dire che ottiene dei voti più che discreti. Il vero problema per Robert, però, è il bullismo. Riceve un bullismo così costante che rovina tutti i suoi anni di studi, creando un ragazzo con un atteggiamento distante e distaccato. Finisce quindi per essere percepito come un alunno difficile e poco brillante. Inoltre, Robert col tempo inizia finalmente a prendere coscienza del suo orientamento. È omosessuale. Però, c'è da dire che per Robert non è né l'omosessualità né il bullismo a rovinargli davvero la vita. La discesa verso l'oscurità di Robert inizia nel 1965. Quello è il suo anno maledetto. Purtroppo diventa vittima di un crimine violento di natura intima. Infatti, per accimolare qualche soldo, inizia a lavorare come assistente cuoco, in un ristorante dove purtroppo subisce violenza da un suo collega di lavoro. Inoltre, nel dicembre di quell'anno, suo padre, una figura a cui è molto legato, bene sia sempre stato molto, molto severo, viene a mancare per un attacco cardiaco. C'è anche un'ennesima cosa che in effetti non fa troppo piacere a Robert. Sua madre si lega in breve tempo ad un altro uomo che per di più sposa di lì a poco. Robert resta scosso da questo comportamento poco delicato della madre. Lo vede proprio come un atteggiamento incredibilmente irrispettoso. In televisione, nello stesso anno, vede il film The Collector. Il film racconta di un uomo che decide di rapire una bella donna per tenerla prigioniera in una stanza sottoterra senza finestre e studiarla come una sorta di cavia. Inizialmente, Robert, dopo tutti questi eventi, cerca di trovare conforto nella chiesa. Ma ogni giorno diventa sempre più difficile per lui, in quanto il dolore per la perdita di suo padre lo divora. Inoltre c'è anche quella violenza l'intima, che non ha mai raccontato a nessuno. Per questi motivi il ragazzo riconsidera la sua fede e abbandona la chiesa cattolica per sempre. Sviluppa un atteggiamento cinico nei confronti della religione. Robert si diploma al liceo nell'estate del 1967. In breve tempo si trasferisce a Kansas City, in Missouri, in quanto vuole studiare arte e vuole diventare professore al Kansas City Art Institute. Robert è considerato uno studente di talento, che lavora molto per trovare la sua ispirazione. Però nello stesso periodo inizia anche ad abusare di alcol e di sostanze. Quindi inizia di conseguenza a vendere delle sostanze ai suoi compagni, proprio per continuare a permettersi le sue dipendenze. Quest'attività però ben presto gli portano un pochi problemi. Viene infatti arrestato nel gennaio del 1968 da un agente sotto copertura. Viene condannato a cinque anni di reclusione, poi però la pena viene sospesa. Poco dopo, nel febbraio del 1968, quindi un mese dopo, viene arrestato nuovamente per possesso di sostanze. Passa poi cinque giorni in cella in attesa del rinvio a giudizio, ma le accuse vengono fatte cadere per mancanza di prove. L'unica cosa che riceve Robert è una multa. Robert ha diversi amici al college, ma è chiaro che c'è qualche problemino. Infatti il ragazzo fa esperimenti su animali vivi durante il suo corso d'arte. In un'occasione precisa uccide un cane di fronte ad una folla per una dimostrazione artistica. Ed è per questo motivo che viene espulso. Se una persona normale pensa ai motivi della sua espulsione, può prendere la situazione come una sorta di segnale per cambiare vita. E invece Robert si sente profondamente offeso per la sua espulsione dall'istituto. Pensa che sicuramente il consiglio del centro studi non capisce il suo marchio d'arte e sta addirittura reprimendo i suoi desideri. Arriva il 1969 e dopo essere stato espulso dalla scuola d'arte, Robert cambia drasticamente direzione. Dopo averci riflettuto, decide di trasferirsi nel quartiere di Hyde Park, sempre a Kansas City. E inizia immediatamente a entrare in quella comunità, ad essere ben accetto in quella comunità. In quanto Robert non sta di certo con le mani in mano. Infatti partecipa a delle pattuglie di prevenzione della criminalità e di sorveglianza del vicinato. Così si guadagna l'amore e il rispetto dei suoi compagni residenti a Hyde Park. Un altro lato un po' segreto di Robert, ma ugualmente molto rispettabile, è ciò che ha fatto per diversi giovani vulnerabili della città all'inizio degli anni 70. Robert infatti passa del tempo con giovani uomini che sono finiti purtroppo in brutti giri. E vi sto parlando ovviamente di giri di prostituzione o ancora giri di sostanze. Robert fa del suo meglio per riportare questi giovani ragazzi sulla giusta strada, per aiutarli a lasciarsi alle spalle i loro stili di vita dannosi. Inizia ben presto a lavorare come cuoco in tutta la città. Questo lavoro lo porta a guadagnare abbastanza. Tanto da acquistare nel settembre del 1969 una villa al 4315 di Charlotte Street, dove va a vivere da solo. Quando non lavora in un bar o in un ristorante, Robert trova il tempo per vendere oggetti d'antiquariato e diverse opere d'arte tutte comodamente da casa. Infatti l'uomo organizza delle vere e proprie giornate in cui crea un mercatino per vendere i suoi oggetti. Ed è proprio grazie ai guadagni ottenuti da questi due lavori che l'uomo riesce a coprire le sue spese. Alla fine Robert diventa un cuoco prestigioso, famoso in tutta la città. Lavora per aziende rinomate e riesce addirittura a far parte di un'associazione di chef che aiuta a formare i giovani studenti di una scuola di cucina locale. Robert si trova bene a fare il cuoco, è un lavoro che ama molto, però ben presto scopre anche l'interesse per le stranezze e l'antiquariato. Quindi decide di investire i soldi accumulati per avviare un'attività di vendita di antiquariato. Siamo nel 1982, Robert ha 33 anni e in effetti decide di fare un passo importante. Si mette in proprio. Abbandona per sempre il suo lavoro da cuoco quando affitta uno stand al mercato delle pulci di Westport in cui vende oggetti legati al macabro, al gotico, all'esoterismo. L'attività di Robert presto prende passo e cresce così tanto da portargli dei bei guadagni. Inoltre c'è anche un'altra novità in campo amoroso. Infatti Robert si innamora profondamente di un uomo reduce della guerra del Vietnam. Robert vive appieno questa storia d'amore che però purtroppo è destinata a durare poco. Infatti il suo compagno ha numerosi problemi e quindi ben presto lo lascia. Per Robert questo abbandono rappresenta l'inizio della fine. Da questo momento non è più lo stesso. Infatti inizia a frequentare giovani prostituti, bazzica nei loro ambienti e per ben due anni continua a circondarsi di giovanotti attraenti permettendo loro di vivere in casa sua in cambio di compagnia intima e lavoretti domestici di vario genere. Durante la gestione dello stand Robert fa amicizia con un uomo. Si chiama Paul Howlett. Il quale ha un figlio di nome Jerry Howlett. Robert e Jerry immediatamente stringono amicizia, vanno in giro per locali, si divertono, bevono, scherzano. Però arriva un giorno. Jerry ha solo 19 anni ed è da un po' di tempo che deve a Robert una somma di denaro. Però ogni volta che Robert solleva la questione, Jerry evita costantemente il discorso e col passare del tempo pare sempre meno propenso a pagare quel debito. È questo gesto che fa arrabbiare Robert. Però la rabbia di Robert è letale. Arriva infatti il 4 luglio del 1984 e Robert decide che è giunto il momento di colpire. Non è un istinto omicida quello che spinge Robert, ma piuttosto l'impulso di causare dolore e spingere il corpo umano ai suoi estremi. Sente di aver bisogno di sapere quanto dolore avrebbe potuto causare e quanti danni e distruzione avrebbe potuto infliggere ad un altro uomo. Quindi Robert cosa va? Va a casa di Jerry con la scusa di portarlo fuori in un locale a bere, a ballare, a far festa. Jerry ovviamente non ha nessun motivo per non crederci e quindi accetta ben volentieri l'invito di Robert. È così che Jerry sale in macchina dell'uomo. Robert guida e intanto passa a Jerry qualcosa da bere dicendogli che è un po' di alcol per farlo scaldare un pochino prima della serata. Peccato che in quella bevanda Robert ci abbia aggiunto dei farmaci sedativi per animali. Di conseguenza Robert guida senza meta aspettando che i farmaci ingeriti da Jerry facciano effetto. una domanda a cui ovviamente sorge spontanea. Ma com'è che Robert usa dei sedativi per animali? Da dove arrivano questi sedativi? Ebbene Robert ha due cani, più precisamente due Chow Chow. Quindi è riuscito ad acquistare e a tenere da parte parecchi sedativi proprio per attendere il momento perfetto. Ed il momento perfetto è giunto. Jerry perde lucidità e Robert lo porta immediatamente a casa sua. Più precisamente nel semi interrato per dare inizio alle sue macabre fantasie. Appena arriva a casa Robert porta Jerry sul letto, lo spoglia e poi resta lì ad ammirare il suo corpo. Quel corpo viene bersagliato per più di 24 ore. L'uomo fa violenza fisica e intima per tutta la notte su Jerry. Ogni volta che Jerry torna abbastanza cosciente per implorare pietà o per chiedere a Robert perché gli stia facendo delle cose così terribili Robert risponde solo con un'altra dose di sedativo. Il giorno dopo Robert va addirittura a lavorare lasciando a casa sua Jerry legato e incosciente. È sicuramente un gesto azzardato ma Robert non può non farsi vedere a lavoro. Deve dare la parvenza che tutto vada come al solito, che tutto sia normale. Nessuno deve sospettare nulla e in effetti il suo piano funziona. Quando torna da lavoro Robert continua a far del male al povero Jerry e decide anche di conservare dei ricordi per il suo piacere documentando il tutto con la sua macchina fotografica Polaroid e un taccuino. Il calvario di Jerry termina solo dopo la mezzanotte del 5 luglio 1984. Jerry viene a mancare per asfissia, probabilmente soffocato dal suo stesso vomito. Dopo un breve fallimentare tentativo di rianimazione Robert con delusione solleva l'ormai deceduto Jerry Howell per trascinarlo in un'altra zona del semi interrato. E qui fa un qualcosa di ancora più agghiacciante. Appende il corpo al soffitto con al di sotto una pentola per poi afferrare il suo set di coltelli da cucina. Qui Robert infierisce su quel corpo come un vero e proprio macellaio col fine di far drenare il sangue del corpo nella pentola. È così che Robert lascia il corpo di Jerry. Lo lascia così appeso per tutta la notte. Torna solo la mattina dopo per finire il lavoro quindi prende una motosega e lo fa a pezzi. Dentro Robert c'è già un senso di insoddisfazione che ben presto cresce perché il suo fine non era di certo quello di far fuori Jerry così velocemente. Ma l'uomo ignora questa soddisfazione abbastanza a lungo per concentrarsi sullo smaltimento del corpo che infila in dei sacchetti di cibo per cani. Quei sacchetti li avvolge a sua volta con altrettanti sacchi neri e poi li va a mettere fuori casa in attesa del passaggio dei neitorbini. Arriviamo al 10 aprile del 1985 e Robert continua la sua mattanza invitando un suo amico intimo Rob Sheldon a stare a casa sua per un paio di giorni. Ovviamente le intenzioni di Robert sono predatorie vuole stordire con delle sostanze in ragazze e usarlo solo e soltanto per il suo piacere intimo. Rob Sheldon va a casa di Robert convento di passare un paio di giorni a casa di un amico e invece anche lui si ritrova stordito nel semi interrato. Rob ora è solo un burattino nelle mani di Robert Berdella. Arriva il giorno dopo e Rob lamenta dei malesseri a causa delle sostanze che ha dovuto assumere. Quindi Robert decide di portarlo da un dottore per farlo curare. A casa ci tornano insieme il 12 aprile e Robert deve decidere cosa fare del suo amico. È meglio lasciarlo andare oppure tenerlo per sé? Quella sera Rob Sheldon si ubriaca così tanto da non riuscire ad andarsene con le proprie gambe e per Robert quello ha un segno. L'uomo quindi riporta la sua vittima nel semi interrato e rincomincia a far violenza su di lui in ogni modo possibile e immaginabile. Fino a quando arriva il 15 aprile quando un operaio edile si presenta a casa di Robert al 4315 di Charlotte Street perché deve fare alcuni lavori al tetto della casa. È a questo punto che Robert soffoca Rob Sheldon. Avrebbe potuto provare ad urlare per attirare l'attenzione su di sé. Dopo averlo fatto fuori usa lo stesso modus operandi utilizzato con la precedente vittima. Appende il corpo al soffitto del semi interrato usa i suoi coltelli e fa dissanguare totalmente il corpo. Poi lo fa a pezzi e lo getta nella spazzatura in dei sacchi neri. Però in questo caso Robert decide di tenersi qualcosa della sua vittima tipo un souvenir ossia la sua testa che seppellisce nel giardino dietro casa. Questo particolare un pochino mi ricorda la storia di Edmund Kemper. Comunque anche questo crimine viene annotato nel taccuino dell'assassino e inoltre anche in questo ma in tutti gli altri casi non mancano le fotografie le polaroid. Nel corso del 1985 altri due sventurati subiscono la stessa identica macabra sorte. Arriva giugno e Robert trova Mark Wallens un uomo che lo aveva aiutato in passato per dei lavori di giardinaggio nascosto nella sua rimessa degli attrezzi col fine di cercare riparo da una forte pioggia. Robert si rende conto che questo uomo è nella sua rimessa e per non farlo stare lì lo invita in casa sua dove lo stordisce con sostanze e come al solito inizia a far violenza fisica e intima su di lui per ore ed ore. Viene anche lui ucciso e fatto sparire esattamente come le altre vittime. Questo oramai è un metodo che Robert ha affinato così tanto che potremmo davvero definirlo il metodo Berdella. Questo omicidio accade il 23 giugno ma arriva settembre e Robert conosce James Ferris in un bar gay gli offre qualche drink per poi invitarlo a casa sua e purtroppo James accetta. James quindi purtroppo fa la stessa identica fine degli altri viene legato stordito e anche lui subisce sia violenza fisica che violenza intima viene a mancare anche lui per soffocamento tra il 26 e il 27 settembre dopo aver colpito tre persone nel 1985 Robert cambia strategia e nei due anni successivi decide di catturare solo una vittima all'anno. Il punto è che Robert vuole prolungare il suo periodo di gioco e non lo vuole prolungare per qualche ora no lo vuole prolungare per molto tempo a questo punto non sarà più questione di ore o giorni ma di settimane intere. Il 17 giugno del 1986 Robert incontra un prostituto che già conosce da tempo ossia Todd Stoops ben presto il carnefice stabilisce che il ragazzo sarà il suo prossimo obiettivo lo invita quindi a casa sua e inizia col suo solito e collaudato rito prima di tutto Robert fa assumere a Todd delle sostanze calmanti proprio per poter rendere docere la vittima e quindi di conseguenza controllarla lo conduce poi nel seminterrato dove lo lega ben bene e lo imbavaglia poi inizia a far violenza su di lui una violenza indicibile che va avanti per settimane il calvario del ragazzo peraltro si conclude con degli episodi alquanto traumatici infatti Robert infila direttamente un pugno nella zona intima del ragazzo queste pratiche molto spinte gli provocano una lacerazione con conseguente setticemia Robert cerca di gestire e sistemare la situazione con degli antibiotici per animali misti a sgorganti e liquidi vari ma senza successo Todd viene a mancare dopo sei settimane di calvario arriva il 5 giugno del 1987 e Robert invita a casa sua Larry Pearson un suo vecchio conoscente appena uscito di prigione Robert lo invita a stare da lui e Larry chiaramente in difficoltà subito dopo il rilascio dal carcere accetta volentieri a partire dal 23 giugno Larry va a stare da Robert che come al solito lo tortura nel suo seminterrato degli orrori per ben sei settimane il 5 agosto del 1987 c'è qualcosa che sfugge a Robert in quanto Larry riesce a morderlo con molta forza la ferita si rivela così grave che Robert è costretto a dirigersi all'ospedale per farsi medicare una volta lì prima viene soccorso e medicato e poi invitato a farsi ricoverare per un intervento veloce Robert accetta ma prima di ricoverarsi torna a casa sua Robert soffoca Larry con un sacchetto di plastica e poi lo lascia lì e se ne torna in ospedale proprio per farsi operare due giorni dopo più precisamente il 7 agosto Robert torna a casa e si libera del corpo di Larry col suo solito metodo anche in questo caso però l'uomo conserva la testa e la seppellisce nel giardino dietro casa in sostituzione del cranio di Robert Sheldon che ormai giaceva sotto terra da circa due anni il teschio di Robert Sheldon finisce in bella mostra in camera da letto di Robert arriva però un giorno un giorno importante un giorno fatale perché Robert fa un errore è il 29 marzo del 1988 Robert riesce a rimorchiare un 22enne di nome Chris Bryson invitandola a passare del tempo con lui in casa sua Chris poveraccio non sospetta assolutamente nulla non sa cosa gli sta per accadere anche perché lui è un prostituto ed è alquanto soddisfatto del suo cliente un quasi 40enne mite fuori forma un po' paffutello Chris pensa che con quel cliente potrà fare soldi facili senza alcun rischio ma una volta entrato nella casa degli orrori di Robert Bryson resta alquanto turbato dalle condizioni igieniche del piano terra dell'abitazione vi sono intere pile di immondizia giornali avanzi sparsi per tutto il pavimento cibo andato a male buttato là e inoltre in quel cavolo di appartamento c'è un forte odore di feci di cane ben presto saltano fuori anche i due cani chou chou di Robert che scorrazzano al piano terra quindi Robert invita Chris Bryson a seguirlo al piano di sopra col fine di poter stare più tranquilli dice Robert una volta giunti al piano di sopra ecco che tutto procede con delle regole già stabilite però in questo caso ci sono delle differenze Chris Bryson viene stordito con un colpo alla nuca poi sedato per bene e infine legato e immobilizzato a letto quindi per il momento lui nel seminterrato non ci finisce è così che per Chris Bryson iniziano quattro giorni di terribili violenze Robert arriva addirittura a dargli delle scosse elettriche nelle parti basse pesta con dei tubi lo minaccia di morte perché dal momento in cui ha messo piede in casa sua Chris è suo schiavo intimo Robert a Chris mostra anche tutte le polaroid che ha scattato alle sue vittime ripetendogli se non fai il bravo finirai anche tu nella spazzatura come gli altri ma ecco che arriva il 2 aprile del 1988 e Robert commette un errore in realtà quella che commette Robert è una trascuratezza che però si rivelerà fatale per lui infatti prima di andare a lavoro Robert che cosa fa lega le mani a Chris Bryson davanti al corpo e non dietro al corpo in questo modo Chris riesce a liberarsi per poi buttarsi dalla finestra del secondo piano dell'abitazione e trascinarsi in strada fino a raggiungere un'abitazione lì vicino Chris Bryson è senza vestiti ha addosso solo un collare per cani il corpo risulta martoriato ha gli occhi davvero tanto tanto rossi inoltre ha anche un piede gravemente ferito ed è in questa condizione che lo trova il suo salvatore ossia un vicino di casa di Robert che non esita un solo secondo a chiamare la polizia Chris Bryson è ovviamente sotto shock e ci mette diverso tempo per trovare la forza e il coraggio di rilasciare una lunga deposizione che dà vita alle indagini su Robert Burdella dunque questa è la fine per il macellaio di Kansas City Robert viene accusato di vari reati tra i quali rapimento aggressione e altri ancora che non vi posso dire perché altrimenti YouTube si emoziona inizialmente gli viene assegnata una cauzione di 500.000 dollari tra il 2 e il 4 aprile del 1988 la casa di Robert viene perquisita abbastanza a fondo e alla polizia ecco che si palesa in bella vista tutto il campionario di oggetti macabri o bizzarri di cui Robert amava circondarsi gli inquirenti trovano libri sul voodoo qualche opera del marchese de Sade e un paio di teschi di dubbia provenienza usati come soprammobili poi un uomo della polizia apre una scatola e si ritrova davanti 200 polaroid che mostrano giovani uomini sottoposti a torture e a violenze intime davvero davvero estreme ad un certo punto uno degli investigatori tra le foto ne trova una in particolare in cui è ritratto un uomo appeso per i piedi a testa in giù chiaramente senza vita questa scoperta fa sì che la cauzione di Robert venga ritrattata mentre le investigazioni sul caso aumentano a questo punto la polizia ribalta tutta l'abitazione di Robert andando anche a scavare nel suo giardino ed è lì che viene ritrovato un teschio quel teschio appartiene a Larry Pearson mentre delle analisi stabiliscono ben presto che uno dei due teschi trovati in casa è effettivamente quello di un uomo ulteriori ricerche inoltre portano alla luce il contenuto terribile del taccuino di Robert dove ha scritto tutto ciò che ha fatto ad ogni singola vittima e non solo su quel taccuino ci sono scritte anche relative impressioni e conseguenze che vi sono state per ogni singola vittima il 22 luglio del 1988 il gran giurì accusa formalmente Robert Berdella dell'omicidio di Larry Pearson mentre il 2 settembre lo accusa dell'omicidio di Robert Sheldon la comunità di Kansas City ovviamente è sconvolta in quanto nessuno avrebbe mai potuto credere che un individuo così tranquillo e dedito a fare opere di bene possa essere diventato un tale mostro anzi un macellaio Robert viene rimandato a giudizio e non ha alcuna possibilità di essere assolto di conseguenza per evitare la pena di morte Robert giunge a fatti con la giustizia si fa carico e fornisce una completa confessione di tutti i suoi omicidi dal primo all'ultimo in cambio della vita la pubblica accusa accetta questa proposta il 13 dicembre del 1988 Robert inizia a vuotare il sacco e in una lunga confessione che dura ben tre giorni ammette di aver fatto fuori sei persone il 19 dicembre del 1988 viene condannato per l'omicidio di primo grado di Robert Sheldon e ha quattro omicidi di secondo grado viene recluso nel penitenziario di Jefferson City nel Missouri dove ovviamente rimane per il resto dei suoi giorni Robert si lamenta spesso delle pessime condizioni di vita dietro le sbarre e di come la polizia e i media abbiano totalmente stravolto la sua vicenda in carcere Robert prova a riabilitarsi istituendo un fondo fiduciario da 50.000 dollari dedicato ai familiari delle sue vittime nel gennaio del 1992 Robert perde una causa legale con la madre di Tob Stoops una delle sue vittime e viene condannato a pagarle una cifra record vi sto parlando di 5 miliardi di dollari in danni morali Robert non è in possesso di questa somma di denaro quindi viene deciso che ogni suo futuro guadagno deve finire nelle tasche della donna l'8 ottobre del 1992 Robert muore in prigione a causa di un attacco cardiaco esattamente come suo padre a 43 anni qualche tempo prima ha affermato in una lettera che il personale della prigione gli stava trattenendo le sue medicine per il cuore Robert si lascia effettivamente alle spalle ancora oggi una vicenda non del tutto chiarita a causa della trascuratezza delle indagini portate avanti dalla polizia di Kansas City che sottolineamolo aveva molta fretta di chiudere il caso per di più c'è anche un altro fatto questo caso di cronacaniere è stato trasformato in un caso di gossip giornale e televisioni ci hanno ricamato e hanno detto per lo più cose false pensate che qualcuno è arrivato a dire che Robert Berdella abbia agito dietro ordini di una misteriosa setta satanica altri dicono che abbia nutrito i suoi cani con la carne delle sue vittime Robert stesso in carcere si è vantato con altri detenuti di aver fatto fuori più di 6 persone molte di più infatti Robert dice che il reale numero delle sue vittime in realtà è 20 c'è da dire che queste però sono tutte storie che rimarranno senza una conferma detto questo ragazzi io ho finito di sproloquiare in questo video spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento fatemi sapere cosa ne pensate del caso di Robert Berdella conoscevate il caso di Robert? cosa ne pensate di questo serial? fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazzi ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.